Salve e benvenuti a Freedom First da Jeffrey Tucker. Oggi vorrei parlare di economia. Tutti ora dicono l'economia sta benissimo. Tutto va alla grande, che meraviglia. Posti di lavoro ovunque, inflazione in calo, produttività in aumento, mercati azionari che vanno a gonfie vele. Eppure c'è qualcosa di strano in tutto questo. La stampa ci dice che il popolo americano è infelice. Siamo molto ingrati. Siamo dei menagrami in attesa del disastro. Avrò letto un centinaio di articoli così. Ogni giorno il New York Times, il Wall Street Journal e Compagnia Bella ci dicono che noi siamo irrazionali, che non guardiamo ai fatti. Guardate i fatti. Guardate i dati. Dimostrano che l'economia va bene. Molto strano. Dicono che voi e io siamo degli idioti, che noi non capiamo quello che capiscono gli economisti. Loro capiscono, perché loro leggono i dati e loro comprendono le realtà statistiche sottostanti che dicono che tutto va alla grande. Voi, invece, vi lamentate dei prezzi e del vostro reddito in calo. Ma non è vero. Questo mi turba, perché a me qualcosa non torna. Mettiamola così. Se credete di stare bene oggi come cinque anni fa, è probabile che abbiate ragione. Ma tutti i dati del mondo non contano niente se vi sentite più poveri di prima. Ho quindi pensato di esaminare alcuni di questi dati e di mostrarvi un po' come le statistiche vengono utilizzate per manipolarvi e convincervi a credere a cose che semplicemente non sono vere. Ci sono tre cose che vengono sempre citate come prova che l'economia sta andando bene. Una è il tasso di disoccupazione, l'altra è il tasso di inflazione e la terza è il PIL, che misura la produzione. La disoccupazione è bassa, l'inflazione è in calo, il PIL è in crescita. Di che ti lamenti? Beh, sono qui per dirvi, e sono decenni che osservo questi dati, che non ho mai visto tante manipolazioni statistiche in vita mia come quelle che vedo ogni mese quando queste agenzie pubblicano i dati dell'Ufficio delle Statistiche del Lavoro, del Ministero del Lavoro, eccetera. È tutto molto, molto discutibile, e ogni mese sembra peggiorare. Questo è particolarmente vero con l'amministrazione Biden. Non so cosa stia succedendo. Un tempo gli uffici economici che distribuivano questi dati erano considerati scienziati indipendenti, al di fuori di manipolazioni e controlli politici. Oggi non sembra più essere così. Qualcosa qui non torna. L'amministrazione Biden sta... Non ne ho le prove, ma sembra che l'amministrazione Biden stia manipolando i comunicati stampa legati a questi dati. Se si studiano i numeri, si scopre subito che nessuna delle cose che dicono è vera. Analizziamo uno per uno questi dati. Questo bel 3,7% dovrebbe renderci felicissimi, da quanto è basso. Negli anni 30 e 40, la piena occupazione era considerata al 6%. Siamo al 3,7%. Non abbiamo motivo di lamentarci. Ma se si analizzano più attentamente i dati, si scopre il contrario. Ad esempio, il tasso di partecipazione al lavoro non si è mai ripreso dai lockdown. Siamo a tassi di partecipazione al lavoro molto bassi. Molti hanno chiuso l'attività, altri hanno perso il lavoro o sono stati demansionati a causa dell'obbligo vaccinale. Magari hanno deciso di andare in pensione prima o forse sono demoralizzati. Comunque, è successo qualcosa che ha fatto sì che la forza lavoro americana si riducesse drasticamente rispetto alla disponibilità delle persone ad andare a lavorare. Quindi, in base ai dati sulla disoccupazione, se ci sono meno persone che si candidano per un lavoro e tutti quelli che si candidano per un lavoro ottengono un qualche lavoro, questo fa scendere il tasso di disoccupazione. Ma se si includono tutte le persone che non fanno parte della forza lavoro e che in passato ne facevano parte, il tasso di disoccupazione è in realtà più alto, è il 6 o il 7% o anche di più. Quindi questo dato del 3,7% è completamente illusorio. Non ci dice nulla sulla partecipazione al mercato del lavoro. Forse hanno danni alla salute, forse sono demoralizzate, forse vivono con la mamma e passano la giornata a vedere video. Ci sono milioni di ragioni per cui le persone non lavorano, ma il punto è che la forza lavoro si è ridotta e molte persone che hanno lasciato la forza lavoro non sono più tornate. Quindi, certo, si può parlare di bassa disoccupazione, ma in realtà questo non dice nulla dello stato di salute dell'economia. Questo è il primo punto. Dobbiamo davvero mandare in pensione il tasso di disoccupazione ufficiale, perché non significa quello che la gente pensa. C'è poi un altro fattore di cui abbiamo già parlato in passato. Sempre meno persone rispondono ai sondaggi delle agenzie governative quando queste chiamano le aziende giuste e chiedono loro quanti dipendenti abbiano. Questo incide profondamente su quella che viene chiamata indagine aziendale. Quando il governo scrive alle aziende non chiede nemmeno quanti dipendenti abbiano e sempre meno imprese rispondono. E se rispondono, c'è un problema, perché anche se dicono abbiamo 30, 40, 50 dipendenti, abbiamo assunto nuove persone, è probabile che siano part-time e che vengano contati due volte da altre aziende che dicono la stessa cosa. E infatti risulta che i titolari di più posti di lavoro ora siano ai massimi storici. Molti dei nuovi posti di lavoro sono part-time e i sondaggi sulla disoccupazione fanno un doppio conteggio. Quando riportano questi dati sui posti di lavoro, riportano sempre 350.000 nuovi posti di lavoro, eccetera. Ma si basa sempre su questo sondaggio piuttosto che sull'altro, molto più veritiero, che è il sondaggio sulle famiglie. Questo sondaggio riguarda un certo numero di famiglie ed estrapola sulla base di una distribuzione normale dell'intera popolazione. Qui si nota, nei dati più recenti, un calonetto del numero di posti di lavoro. Quindi, ad esempio, se in questo momento avete tre lavori e l'agenzia che vi chiama vi chiede se state lavorando, voi rispondete di sì. Ma non vi contano tre volte se avete tre lavori. No. Ovviamente, vi contano una volta sola. E con questo metodo è possibile ottenere una lettura molto più veritiera. ma questo non c'è mai nei comunicati stampa ufficiali e nemmeno sulle prime pagine del Wall Street Journal e del New York Times. E poi, Wall Street vede i nuovi posti di lavoro e compra e il mercato azionario sale. È tutto abbastanza folle e falso. Ho amici che seguono da vicino questi dati alla Heritage Foundation e mi dicono che non ci sono nuovi posti di lavoro a tempo pieno. Anzi, i posti di lavoro a tempo pieno calano. Aumentano solo i part-time. Io lo dico da un anno. La maggior parte dei nuovi posti di lavoro è una conversione di lavori a tempo pieno in lavori a tempo parziale. E quindi un'attenta analisi dei dati sull'occupazione mostra che è in atto un disastro ed è semplicemente incredibile che questa sia chiamata creazione di posti di lavoro e che persone come Janet Yellen possano andare in tv con simili proclami. È del tutto assurdo. Quanto a Wall Street, lì nessuno si preoccupa molto di quello che è realmente vero. Per loro conta quello che credono che gli altri credono vero. Chiaro? È una specie di circolo vizioso. Io so che è falso, ma tu pensi che sia vero e tu pensi che sia vero perché qualcun altro lo pensa. In questo modo la menzogna diventa la base della formazione delle aspettative sul futuro al posto della verità. A un certo punto tutto questo potrebbe cambiare, ma qui non stiamo migliorando. La situazione lavorativa non sta migliorando. Anzi, sta peggiorando drasticamente. Questo per quanto riguarda i posti di lavoro. Passiamo al dato sull'inflazione. Si tratta di un dato molto interessante perché fino a pochi anni fa nessuno si preoccupava più di tanto dell'inflazione. Per 40 anni i prezzi erano rimasti più o meno stabili. Salivano dell'uno, due, forse tre per cento all'anno. Probabilmente era più alta di quanto venisse comunicato ufficialmente, ma non era un'ossessione. Sapevamo che il nostro potere diminuiva, ma non succedeva così velocemente da diventare un problema. Ma con il lockdown covid, la Federal Reserve si è messa a stampare denaro. Il Parlamento ha stanziato migliaia e migliaia di miliardi di spesa pubblica. Il Ministero del Tesoro crea titoli di debito che vengono immessi sul mercato e che la Fed acquista con il denaro appena creato. Di conseguenza, M2 sale alle stelle con un picco del 26% di incremento annuo. Incredibile! A seconda di come lo si calcola, la Federal Reserve ha creato tra i 5 e gli 8 mila miliardi di dollari in questo periodo mentre il governo invia soldi alle imprese e alle famiglie. È un periodo storico molto strano perché hai la sensazione di spendere i soldi dello Stato. All'improvviso non sei tu che devi andare al lavoro. Tu passi le giornate a ciondolare in pigiama e invece di pagare tu il governo è il governo che paga te. A quel punto dovevamo capire che qualcosa non quadrava. E infatti, un anno dopo il conto da pagare arriva, sotto forma di un'inflazione altissima e che diventa sempre più alta. Si diceva che sarebbe stata una cosa transitoria ma non è stato così. Questa situazione è iniziata nel 2021. Ora siamo nel 2024 e l'inflazione è sempre altissima. Ogni mese arrivano dati che continuano a essere pessimi e l'indice dei prezzi esclude gli alimentari e l'energia che sono i più volatili. È ancora altissima per qualsiasi parametro. Eppure l'amministrazione Biden continua a sostenere di aver sconfitto l'inflazione. I prezzi sono sotto controllo, l'inflazione è praticamente scomparsa ma i dati dicono sempre il contrario. Ma cos'è successo a partire dal 2020? Secondo l'indice dei prezzi al consumo il dollaro ha perso circa il 20% del valore. Quindi un dollaro del 2020 ora vale 80 centesimi. Questo dicono i dati ufficiali. Io non conosco nessuno che ci creda. Basandovi solo sui vostri acquisti a voi sembra che solo 20 centesimi di dollaro siano andati perduti oppure vi sembra un po' di più il 30% o il 50% o addirittura l'80% o il 100% o di più a seconda di cosa acquistate. Io direi che è molto più alto. Noi ci siamo messi a esaminare questo aspetto. Tutto si riduce alla formula utilizzata per valutare il peso delle varie voci all'interno dell'indice dei prezzi al consumo che misura praticamente tutto. Non tiene conto della shrinkflation dell'inflazione da sgrammatura tutto si è rimpicciolito dalle confezioni di arachidi al detersivo per il bucato al sacchetto di patatine tutto è di meno. L'indice dei prezzi al consumo non tiene conto dell'inflazione da differenze di quantità di prodotto è un escamotage in cui le aziende non aumentano il prezzo lasciano uguale il prezzo ma ti danno meno prodotto ma non le biasimo stanno cercando di sopravvivere fanno quello che possono ma l'inflazione da sgrammatura è un fattore importante basta guardare il dentifricio è più piccolo lo shampoo è più piccolo tutto è molto più piccolo è come se il mondo fisico si stesse magicamente rimpicciolendo intorno a noi e ciò nonostante l'inflazione c'è ancora un'inflazione molto peggiore se si tiene conto dell'inflazione da sgrammatura ma l'ufficio statistico del lavoro non lo fa e in genere nemmeno il ministero del lavoro lo fa perché non possono è impossibile tenere conto di tutta l'inflazione da sgrammatura è troppo complicato e ci sono anche altri fattori uno dei principali sono i premi dell'assicurazione sanitaria sapete per certo che i premi della vostra assicurazione sanitaria sono aumentati del 20 30 50% rispetto a 5 anni fa e se guardate con attenzione a quanto paga il vostro datore di lavoro se avete un'assicurazione sanitaria fornita dal datore di lavoro vedete la stessa cosa pagare un'assicurazione sanitaria oggi è molto più costoso di 5 anni fa ma i dati del governo dicono che tra il 2022 e il 2023 si è registrato un calo del 37% dei premi delle assicurazioni sanitarie che calcolo fanno? ve lo dico io nell'ottobre 2023 hanno cambiato la formula per valutare le variazioni di prezzo nell'ambito dell'assistenza sanitaria e l'hanno fatto retroattivamente per diversi anni hanno deciso di considerare quanto si paga per l'assicurazione sanitaria rispetto a quanto si consuma per l'assicurazione sanitaria e poi hanno utilizzato una formula molto fantasiosa per valutare come i cambiamenti nell'allocazione di quanto si paga e di cosa si consuma e quanto di questo si è influenzato dalla pure inflazione rispetto all'aumento dei consumi so che sembra leggermente complicato quindi vi farò un semplice esempio supponiamo che abbiate un ristorante cinese in cui andate sempre il mese scorso avete speso 50 dollari alla fine di questo mese vedete che avete speso 200 dollari se aveste consumato la stessa quantità di cibo andandoci per esempio una volta questa sarebbe inflazione ma se aumentate i vostri scambi con il ristorante cinese da una a quattro volte e spendete 200 dollari invece di 50 non si tratta di inflazione ma di aumento dei consumi ecco hanno fatto la stessa cosa con l'assistenza sanitaria il premio assicurativo dell'assistenza sanitaria si paga ogni mese a prescindere dal fatto che si usufruisca dell'assistenza ma secondo il governo se si consumano risorse di assistenza sanitaria si deve tenerne conto nel pagamento un gioco di prestigio statistico da maestro almeno secondo me l'hanno deciso nell'ottobre del 2023 rendendolo retroattivo e che è successo tra il 2020 e il 2022 nel 2020 quasi nessuno andava in ospedale o dal dottore perché eravamo praticamente tutti in lockdown e la gente aveva paura un fatto buffo visto che quella doveva essere una pandemia di proporzioni storiche la peggiore degli ultimi cento anni ma la spesa e il consumo di assistenza sanitaria sono diminuiti drasticamente sì perché gli ospedali erano chiusi la maggior parte è rimasta vuota le infermiere facevano video di danza i medici non erano al lavoro i pazienti non ci andavano perché avevano paura del covid o erano semplicemente spaventati da come si era ridotto il mondo o altro una volta terminati i lockdown è arrivata una valanga di visite mediche arretrate le persone erano meno in salute e l'abuso di sostanze varie aveva preso il sopravvento eccetera insomma la gente ha ricominciato ad andare dal medico quindi il consumo di risorse e servizi sanitari è aumentato enormemente quindi se si riuscisse a trovare una formula per confrontare i premi sanitari e i prezzi in aumento con il consumo di assistenza sanitaria in modo che l'aumento del consumo stesso annullasse l'aumento dei prezzi si avrebbe addirittura deflazione semplicemente geniale vero? ma d'altronde parliamo di economisti moderni e brillanti ed ecco come si fa a far sparire l'inflazione tra il 2022 e il 2023 sono riusciti a creare un calo del 37% dei premi delle polizze sanitarie incredibile e infatti è completamente falso e se si unisce questo dato a tutte le altre voci dell'indice si riesce ad abbassare il tasso di inflazione e in modo massiccio e questo è solo un esempio del tipo di imbroglio statistico perpetrato dal governo è così che riescono a dire che l'inflazione è stata solo del 20% circa negli ultimi tre anni ma non è vero io non credo più a questi dati e vabbè direte si sa che l'inflazione è sempre più alta di quello che dicono ed è giusto così passiamo ora al PIL il dato che misura la produzione e che deriva dalla contabilità del reddito nazionale inventata negli anni 30 un periodo in cui gli economisti e i governi credevano che esistesse una cosa come una produzione nazionale che potesse essere calcolata statisticamente ed elaborarono una formula per farlo era un periodo in cui il fascismo lo statalismo estremo e la pianificazione centrale la facevano da padroni tutti ci credevano così l'unione sovietica aveva il suo PIL la Cina il suo PIL e gli Stati Uniti il loro PIL e tutti erano in competizione tra loro nel corso dei decenni si è scoperto che molte di queste cose erano false per esempio si pensava che l'economia sovietica fosse cresciuta in modo massiccio tra gli anni 30 e gli anni 80 bastava prendere un qualsiasi testo di economia americano degli anni 60 70 80 per vedere un grafico che mostrava che alla fine il PIL sovietico sarebbe stato superiore a quello americano perché il tasso di crescita era più rapido nel 1989 quando il grande esperimento sovietico è collassato abbiamo analizzato l'Europa orientale e l'impero sovietico in generale tutti erano poveri in canna mancavano i beni di consumo e l'assistenza sanitaria erano alla fame i negozi di alimentari non avevano scelta la povertà era palese ma come per decenni avevamo pensato che questa economia fosse in crescita e invece non lo era come sono riusciti a prenderci in giro così ve lo dico io un solo trucco anzi due il PIL include la spesa pubblica nella produzione nazionale da sempre era vero nel 1934 quando hanno inventato questa assurdità ed è vero anche oggi quindi più il governo spende più il PIL sale ora ragioniamo da dove prende i soldi lo Stato i soldi li prende da me e da voi e dalle tasse alle imprese è da lì che lo Stato prende i soldi non ha denaro proprio tutto quello che lo Stato ha lo ha preso dalla popolazione per un PIL corretto dovremmo sottrarre la spesa pubblica non aggiungerla al PIL ma non è così ecco perché si diceva che l'Unione Sovietica fosse così ricca più ricca degli Stati Uniti e per decenni e invece non era vero e lo stesso vale per la Cina di oggi ecco perché il PIL continua a salire e salire e salire perché il governo continua a spendere sempre di più e mi dispiace ma questo sta accadendo anche negli Stati Uniti ogni volta che viene riportato il PIL si mischiano le spese del governo federale quelle degli stati e quelle degli enti locali il governo federale concede sovvenzioni ai governi statali i governi statali concedono sovvenzioni ai governi locali tutte le spese e le assunzioni del governo vengono aggiunte al PIL se sottraiamo la spesa pubblica risulta che non siamo mai usciti dalla recessione della primavera 2020 io lo dico da un po' siamo entrati in recessione a causa dei lockdown e non ne siamo mai veramente usciti siamo ancora nel tunnel si continua a parlare di questa grande ripresa inflazione controllata e se non ci fosse mai stata una vera ripresa non c'è mai stata e se fossimo sempre in recessione questa è una interpretazione molto più credibile di quella che sentite oggi dai media mainstream l'economia è forte e la Federal Reserve sta facendo del suo meglio per controllare l'inflazione senza danneggiare l'economia io non ci credo e penso non dovreste crederci nemmeno voi abbiamo un grosso problema in questo momento tutti manipolano le statistiche economiche la Federal Reserve è davvero a corto di strumenti pensiamoci un attimo continuiamo a sentir dire che l'economia è forte giusto? ma perché la Federal Reserve sta accarezzando l'idea di ridurre nuovamente i tassi di interesse se non ci sono problemi perché si dovrebbero abbassare di nuovo i tassi di interesse loro dicono che è solo per prevenire la recessione non so io direi invece che la Fed sa che le cose vanno male e che teme che dall'attuale recessione si passi a una depressione una depressione drammatica questo è il problema l'economia in questo momento sta in piedi a forza di falsificazioni falsità statistiche e a Washington lo sanno tutti ma loro non vogliono che il popolo americano lo sappia per questo la Fed sta ventilando un abbassamento dei tassi ma è una strada estremamente pericolosa dopo l'uscita dal gold standard avevamo un'inflazione altissima tra il 1973 e il 1974 la Federal Reserve alzò i tassi e l'inflazione tornò a scendere e la Fed si diede la pacca sulla spalla da sola poi in vista delle elezioni del 1976 e attenzione la Fed fa politica sempre non fatevi prendere in giro da chi dice il contrario la Fed abbassò i tassi un nuovo tasso di creazione di denaro e di credito fece eleggere Carter e indovinate tre anni dopo avevamo la peggiore inflazione del ventesimo secolo persino peggio di ora la Fed pensava di avere tutto sotto controllo manipolò i tassi di interesse per fare eleggere il suo candidato e l'inflazione peggiorò io temo che stiamo per rivivere la stessa storia pensate che l'inflazione sia finita vediamo cosa succederà nel 2024 se la Fed inizierà ad abbassare i tassi in estate e in autunno per rendere tutto molto bello per mettere ancora un po' di rossetto a questo maiale in vista delle elezioni di novembre in modo che Biden possa essere rieletto o che venga rieletto chi sostituirà Biden nel 2025 2026 potremmo assistere a un'inflazione molto peggiore di quella di ora non bisogna mai credere che la situazione sia sotto controllo meno che mai quando loro dicono di avere tutto sotto controllo mi dispiace per tutte le cattive notizie di oggi ma a prescindere da come la si guardi i dati sull'occupazione non sono reali i dati sull'inflazione non sono reali e i dati sul PIL non sono reali io sono molto sospettoso su tutto quello che esce dall'amministrazione Biden mettere sempre la libertà al primo posto e poi avremo un'economia sana e poi avremo la verità qui è Jeffrey Tucker Grazie a tutti